E' stato accertato che la proprietà non ha ottemperato quello che era l'accordo di programma. E' un inaspettato coup de teatro, quello andato in scena stamane alla conferenza dei servizi che ha riunito i diversi attori che seguono la vicenda della ferriera di Servola. Regione Friuli-Venezia Giulia, ARPA, Azienda Sanitaria, Vigili del Fuoco e Comune di Trieste chiamati a verificare l'adempimento di quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Arvedi a seguito dell'accordo di programma. In particolare la conferenza ha preso atto che la proprietà non ha ottemperato a quanto previsto nell'allegato B dell'AIA relativamente alla copertura dei parchi minerali. L'accordo di programma ha consentito ad Arvedi di avere l'AIA, l'autorizzazione ambientale integrata. Allora la Regione ha contestato tutto questo, l'abbiamo contestato insieme con i Vigili del Fuoco, insieme con l'AS, insieme con l'ARPA e alla fine abbiamo fatto un documento che la Regione adesso diffida la proprietà a realizzare quest'opera. La conferenza dei servizi ha evidenziato come l'elaborato presentato dalla proprietà dello stabilimento non abbia requisiti sufficienti per essere definito un progetto relativo appunto alla copertura dei parchi minerali ed ha contestato anche l'affermazione della proprietà secondo la quale i parchi contribuiscono all'inquinamento nella misura del 10% ravvisando così la non necessità, secondo loro, di coprire i parchi medesimi. Su istanza dell'amministrazione comunale la conferenza dei servizi ha quindi negato ulteriori proroghe a favore della proprietà per adempiere a quanto previsto dall'AIA sullo specifico punto dei parchi minerali ed ora si attendono i provvedimenti della Regione nei confronti di Arvedi e Siderurgica Triestina. Adesso la Regione li farà la diffida e attenzione che potrebbe saltare anche l'AIA. In funzione delle diffide e di quello che farà la Regione poi il Comune si incomporterà di conseguenza. Infine Roberto Di Piazza ribadisce una volta di più quella che è la sua posizione sullo stabilimento di Servola. Io sono favorevole all'aminatoio, sono favorevole all'aglistica però l'area a caldo deve essere chiusa assolutamente per rispetto ai servolani anche dopo le analisi sulle urine che hanno chiarito che insomma quello stabilimento lì porta a seri problemi alla popolazione. Grazie Grazie Grazie